Ciao e benvenuti nel mio canale. Oggi ti porto le anticipazioni di Terra Amara, davvero piene di colpi di scena. Zuleya si trova a combattere con il suo più oscuro passato. Demir invece a sua volta farà di tutto per scoprire la sua vera identità. Cosa succederà? Scopriamolo insieme. Zuleya e Demir siedono in un ristorante all'aperto, ma la loro tranquillità è condivisa con due osservatori silenziosi, Fekeli e Fikret, che li scrutano da lontano. Fekeli, con tenacia, tenta di convincere Fikret a liberarsi dal peso della vendetta. Fikret pone una domanda cruciale. Può Fekeli dimenticare il tormento inflitto a Ilmaz e Zuleya? Fekeli implora con sguardo supplichevole, sottolineando che il passato è ormai un ricordo lontano e che non spetta a loro il compito di giudicare o punire. Un silenzio opprimente pervade la situazione. Interrotto solamente dalle sincere scuse di Fikret, il quale evidenzia la presenza di Zuleya e Demir. Con un profondo sospiro, decide di accantonare la sua rabbia, almeno per il momento, ma resta incerto su cosa il futuro riservi. Fikret, con parole semplici, dichiara di non avere molto da aggiungere, ma è pronto a continuare la discussione, se necessario. Si alza con decisione, pronto a effettuare una telefonata. Mentre attraversa la stanza, i suoi occhi incrociano quelli di Demir, e lo saluta con un cenno del capo, quindi, con tono riservato, chiama Umit. Fikret chiede a Umit se ha avuto un confronto con Demir quel giorno. Umit, sorpresa, nega e chiede se ci sia qualcosa di sbagliato. Fikret, con un sorriso malizioso, rivela che Demir e Zuleya stanno trascorrendo del tempo insieme come due innamorati. Umit, incredula, chiede se è serio, ma Fikret, con tono di avvertimento, le dice che se non si affretta a conquistare Demir, Zuleya potrebbe cedere al suo fascino e il suo piano potrebbe andare in fumo. Umit, sicura che prenderà le misure necessarie, chiude la chiamata. Prima di continuare se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e lascia un bel mi piace. Grazie di cuore. Ripartiamo. Nel frattempo, Umit si dirige verso la dimora che Demir le ha concesso, cercando un pretesto per contattarlo. Notando un tubo all'esterno, vede l'opportunità perfetta. Con uno sguardo astuto, prende un utensile e lo danneggia, causando una perdita d'acqua. Soddisfatta della sua astuzia, se ne va con un sorriso di trionfo. Più tardi, nella sontuosa tenuta Yaman, Zuleya entra nel salotto e riceve complimenti per l'elegante abito da Sevda e dagli operai presenti. Ammine, con uno sguardo affamato, esprime il suo desiderio per l'ora della cena. Zuleya, con una tonalità materna, le chiede se vuole mangiare immediatamente. Ammine annuisce, e Sevda, curiosa, chiede di Demir. Zuleya, con un sorriso gentile, risponde che Demir arriverà presto e che tutti potranno gustare la cena insieme. Ammine accoglie la notizia con un sospiro di sollievo. Nel frattempo, Umit versa con attenzione il vino in un calice e compone il numero della villa. La voce di Demir risuona dall'altro capo e, quando riconosce Umit, le chiede con preoccupazione come sta. Con voce tremante, Umit racconta del disastro che ha trovato al suo ritorno, l'acqua ovunque, un'inondazione in piena regola. Sospetta che un tubo sia la causa del problema, ma si sente persa e incapace di trovare il rubinetto principale. Demir, con un tono rassicurante, le dice di non muovere un dito e che sarà lì in un attimo. Umit, con falsa modestia, insiste di non voler causare disagi, ma Demir la rassicura e lei lo ringrazia, attendendolo nel salotto con l'anticipazione dell'arrivo del suo ospite. Nella villa, l'assenza prolungata di Demir fa sì che la cena inizi senza di lui. Zuleya, con un'espressione preoccupata, chiede a Fadik di servire il pasto ad Ammine, sottolineando che Demir non dovrebbe tardare molto. Tuttavia, come colpo di scena, Demir fa il suo ingresso. Zuleya, con un tono interrogativo, gli chiede del suo ritardo. Demir, in modo evasivo, suggerisce di proseguire senza di lui, poiché ha un impegno inderogabile. Con un pizzico di sospetto, Zuleya cerca di saperne di più, ma Demir rimane vago. Ammine, con un tono accusatorio, suggerisce che Adnan potrebbe essere il vero motivo della sua uscita, lamentandosi che gli uomini sono tutti uguali e che Adnan, essendo sposato, non dovrebbe avere scuse per uscire così tardi. Sevda, con un'espressione imbarazzata, assiste al monologo di Ammine, che continua a lamentarsi delle presunte scappatelle di Adnan. Nel frattempo, Demir si dirige verso la dimora di Umit. Lei, con abile recitazione, finge di essere sopraffatta dalla situazione, cercando in vano di contenere l'acqua che si diffonde ovunque. Appena Demir varca la soglia, i suoi occhi si posano sulla scena del disastro. Umit, con un tono di voce tremante, lo accoglie guasto, commentando la gravità della situazione. Umit, con un'espressione di innocenza, sostiene di essere stata colta di sorpresa dal guasto al suo ritorno dal lavoro. Demir, con uno sguardo attento, nota l'antichità del tubo e ipotizza che potrebbe non aver resistito alla pressione. Mentre si dirige verso il rubinetto principale, lancia un sorriso furtivo, sollevata dal fatto che Demir non abbia alcun sospetto. Una volta risolto il problema, Umit esprime la sua gratitudine, fingendo di essere imbarazzata per averlo disturbato per una questione così banale. Demir, sempre gentile, minimizza il problema e promette di inviare qualcuno per le riparazioni il giorno successivo. Nonostante le proteste di Umit, che insiste nel voler gestire la situazione da sola, Demir rimane irremovibile. Mentre la conversazione prosegue, Umit, con un tono seducente, invita Demir a prendere un caffè in segno di ringraziamento. Inizialmente riluttante, Demir alla fine cede all'invito di Umit. Mentre attende, il suo sguardo cade su una fotografia posizionata sul tavolino. Un ritratto di lui è Sevda. Umit, tornando con il caffè e un bicchiere di liquore, nota il suo interesse per la foto. Demir, con un tono leggermente sorpreso, commenta la presenza del ritratto e offre di portarlo via. Ma Umit, con un sorriso malizioso, insiste nel volerlo conservare. Mentre sorseggiano le loro bevande, l'atmosfera si carica di tensione. E con uno sguardo penetrante, Umit cerca di avvicinarsi a Demir, dando inizio a un gioco di seduzione. Nel frattempo, nella villa Yaman, Sevda si risveglia nel salotto con una luce soffusa che illumina il viso di Zuleya, seduta accanto a lei. Sevda ammette di essersi lasciata sopraffare dalla stanchezza addormentandosi lì. Zuleya, con un tono materno, la esorta a ritirarsi nelle sue stanze, ma Sevda suggerisce che anche Zuleya dovrebbe concedersi un meritato riposo. Zuleya, con un sorriso malinconico, ammette di essere abituata alle lunghe notti. Sevda, con un pizzico di audacia, chiede se Zuleya sta aspettando Demir. Zuleya cerca di nascondere le sue emozioni e nega. Ma Sevda, con un tono provocatorio, la sfida a riconoscere i suoi veri sentimenti. Zuleya, con gli occhi lucidi, parla dell'amore eterno per Ilmaz. Sevda, però, la esorta a guardare avanti, sottolineando che la vita è breve e che Zuleya merita di essere amata. Le ricorda che Demir l'ha sempre sostenuta e che dovrebbe dare una chance al loro amore. Nel frattempo, in un altro angolo della città, Demir si prepara a lasciare la dimora di Umit, annunciando che invierà qualcuno per le riparazioni. Umit, con un impeto di passione, lo trattiene. Le sue parole sono cariche di desiderio e sincerità, confessando i suoi sentimenti profondi per lui. In un momento di intensa emozione, le loro labbra si incontrano in un bacio. Le anticipazioni terminano qua. Se volete un altro video, scrivete, certo, nei commenti, iscriviti al canale e lascia un mi piace. Ciao!